quanti pasti al giorno intanto che il tempo passa il latte materno perde gradualmente il suo protagonismo non la qualità per dare spazio ad altri alimenti ai sei mesi il bambino deve mangiare un pasto al giorno più latte materno a volontà tra i sette e otto mesi due pasti al giorno più latte materno a libera domanda dopo i nove mesi tre o quattro pasti al giorno più latte materno è importante ricordare che anche se aumentano i numeri di pasti solidi al giorno si può e si consiglia continuare ad allattare fino ai due anni di età